E' messa la sentenza d'appello a carico di 21 tra presunti boss e gregari del clan di Brancaccio a Palermo. Si tratta dell'inchiesta cosiddetta Mare Dolce. Mafia, repressione e sentenze a processo. La sezione della Corte d'Appello di Palermo, preseduta da Vittorio Anania, ha ridotto le condanne a 7 dei 21 imputati giudicati in abbreviato nell'ambito dell'inchiesta antimafia cosiddetta Mare Dolce. A carico del clan di Brancaccio. Gli sconti di pena sono stati concessi ad Antonino Marino da 10 anni a 7 anni, 11 mesi e 10 giorni. Poi Roberto Mangano da 6 a 5 anni. Pietro D'Amico da 5 a 3 anni e 4 mesi. Giuseppe Frangiamore da 2 anni e 8 mesi a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni. Poi Giovanni Pilo da 6 anni a 5 anni e 4 mesi. A Giacomo Teresi sono stati inflitti 18 anni di reclusione. Ma in continuazione con una precedente condanna. Sentenza di primo grado confermata per Pietro Tagliavia, presunto capo del clan di Brancaccio, e figlio di Francesco Tagliavia, coinvolto nelle stragi mafiose del 92 e del 93, che sconterà a 14 anni di carcere. Poi Francesco Paolo Clemente, 12 anni. Giuseppe Ficarra, 10 anni. Giuseppe Loporto, 8 anni. Santo Carlo di Giuseppe, 12 anni. Giovanni Vinci, 10 anni. Giovanni Mangano, 8 anni. Giuseppe Michelangelo Di Fatta, 12 anni. Massimo Altieri, 2 anni e 8 mesi. Gaetano Lococo, 2 anni e 8 mesi. Maurizio Puleo, 4 anni. Stefano Tomaselli, 3 anni e 4 mesi. Francesco Paolo Mandala, 2 anni e 8 mesi. E Rosalia Orlando, anche lei, 2 anni e 8 mesi. Giuseppe Loporto è fratello di Giovanni, l'operatore umanitario rapito da Al-Qaeda, è ucciso nel 2015, nel corso delle blitz, con cui un commando statunitense avrebbe voluto liberare lui e altri due ostaggi. Grazie a tutti.